Poteva andare molto peggio se non avessero fatto una coraggiosa manovra repentina, sfuggendo così dalle grinfie di due rapinatori che si erano finti poliziotti. Sono riusciti a divincolarsi e chiamare la polizia due ragazze casertane di ritorno da un matrimonio, inseguite ieri sull'autostrada 1 all'altezza del casello di Caserta Sud da una macchina, un'alfa Giulia Bianca, con un lampeggiante blu che sembrava l'auto di poliziotti in borghese. Dopo aver affiancato l'auto delle due donne, stringendola verso il guardrail, hanno acceso il lampeggiante e hanno tagliato la strada, costringendola a fermarsi. A quel punto un uomo con un passamontagna è sceso dall'alfa e ha puntato la pistola contro l'altra auto. Con una manovra improvvisa la donna al volante è riuscita a fuggire e poi a chiamare la polizia stradale, che l'ha raggiunta e scortato la macchina, mentre l'alfa ha fatto perdere le tracce. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei finti poliziotti, in realtà pericolosi rapinatori.